Ciao a tutti, oggi vedremo come scaricare l'app Io e impostarla. Quindi andiamo sul nostro App Store, andremo a cercare l'app Io e questa qui. Poi vi farò anche un video per gli Android, questo vale per gli Apple. Scarichiamo l'app Io, abbiamo due possibilità di entrare. Entrare con la carta di identità elettronica o con lo Speed. Io seleziono Speed e seleziono il provider Poste ID. Poi vi farò vedere come registrarvi a Poste ID. Quindi procedo con il login, con tutta l'autenticazione. Ecco, entrati nello Speed, mi uscirà questa schermata. Dovrò selezionare un codice di sblocco dell'applicazione. Quindi segnate per due volte il codice di sblocco. Piggiate su Continua, consentite l'autenticazione biometrica. Una volta entrati, l'applicazione sarà questa qui. Quindi avremo il portafoglio, dove andremo ad aggiungere i nostri metodi di pagamento. Ecco, se clicchiamo oggi su Cashback ci dice che è in arrivo. Cliccando su Metodi di pagamento possiamo selezionare Carta di credito, debito, prepagata, conti, banco, post o post pay. Qui inseriremo tutti i dati della nostra carta, come un normale acquisto online, come sempre. E la valideremo. Potremo utilizzare questa carta e il Cashback sarà di ritorno sul nostro IBAN, che poi andremo ad inserire nella sezione Cashback. Una cosa molto utile che ho trovato nell'applicazione è la visualizzazione del codice fiscale. Quindi se un giorno non l'avete dietro, potete andare su Profilo e lì vi esce il vostro codice fiscale. Lo vedete in verde. Cliccandoci su si apre il menu a tendina con il vostro codice fiscale. Questa è l'app e in un video successivo vi farò vedere come autenticarvi a Speed se non lo avete già fatto. Se avete la carta d'identità elettronica avrete ricevuto il primo giorno quando avete fatto la richiesta, le prime quattro cifre della carta d'identità elettronica. Poi successivamente vi saranno arrivati a casa, assieme alla stessa carta, altre quattro cifre. Quello sarà il PIN da inserire per l'autenticazione con la carta d'identità elettronica. Spero di esservi stato d'aiuto. Se avete bisogno di delucidazioni, quindi potete fare delle domande, scrivetelo nei commenti e se sarò in grado vi risponderò a tutte le vostre domande. Ciao, grazie e alla prossima! Grazie a tutti!